Mi chiamo Patrizia, sono ospite di Villa Letizia ormai da tre mesi, per il momento ho un posto sicuro al caldo dove stare e potersi rimettere nuovamente in gioco nella vita. Praticamente le vicende sfortunate della mia vita che mi hanno portato qui, come capita a tutti, perdita del lavoro, incomprensioni familiari, perdita della casa. Vivere per strada non lo auguro a nessuno, è veramente dura, sono le donne a essere le più fragili da essere aiutate quelle che stanno per la strada. Una mattina esco e ritorno qui, un posto accogliente, le persone che mi vogliono bene come se fossero la mia famiglia. È come se ti trovassi in mare stessi per annegare, se non c'è qualcuno che ti tende la mano per salvarti non ce la fai a fondo. Meglio tutti insieme. Su questa barca ci siamo tutti, ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo. Grazie. Grazie.